Questa non è una cerimonia di inaugurazione, quindi lo chiariamo. Noi siamo qui per un test, quindi non siamo per una passerella, siamo per un test, perché il governo, come ha già fatto e è stato ricordato in precedenza, vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori. Oggi c'è questo test con cui vedremo insieme l'inalzamento delle 78 paratoie e la chiusura contemporanea di tutte le bocche di porto. Abbiamo quindi una poderosa opera che attende da anni il completamento, una barriera che si estende per 1,6 chilometri e che è nata già da tante polemiche per un obiettivo concreto, non un obiettivo immaginifico, per quanto visionario potesse essere quando è stata progettata, salvaguardare Venezia dall'acqua alta. E' per questo che quando siamo venuti qui, in occasione, purtroppo un'occasione non piacevole, è stato il 12 novembre, acqua alta, acqua grande come dite qui a Venezia, dopo qualche ora eravamo qui con la ministra De Michele in particolare per verificare con mano i danni, la paura, l'angoscia, la devastazione che ha portato quella acqua alta. Ci è stata, c'è stato detto, la seconda dopo quella storica, sino a 187 centimetri. E abbiamo quindi toccato con mano, dicevo, la sofferenza di questa città. Ci siamo fatti una promessa. Questo mose va completato. Va completato e dobbiamo fare in modo, perché non abbiamo altri strumenti, che il prossimo autunno-inverno ci sia uno strumento di salvaguardia. Oggi quindi noi siamo qui augurandoci che questo strumento, questa opera possa funzionare e possa rispondere all'obiettivo per cui è stata progettata. Il nostro è un approccio molto laico, molto pragmatico. E' stato anche ricordato, questa è un'opera che ha tirato su di sé tantissime critiche, dibattiti. E' stata avversata e anche auspicata. E' un'opera che è stata rallentata nella sua esecuzione. E' un'opera su cui si sono addensati chiari episodi di corruzioni, di malaffare, che ne hanno anche compromesso il completamento. Episodi assolutamente deprecabili. Noi non dobbiamo dimenticare nulla. E' la storia.